Accademia Cronos, la più anziana fra le associazioni ambientaliste italiane, promuove per il 21 marzo, in collaborazione con il Corpo dei Carabinieri Forestali e Roma Capitale, un momento di approfondita riflessione sui cambiamenti climatici in corso e sul conseguente disastro ecologico che sta colpendo il mondo intero. Ma non manca una vena di ottimismo. Se tutti faremo la nostra parte, infatti c'è ancora speranza. Ecco allora che, dopo alcune breve relazioni di carattere scientifico e innovativo sui temi di cambiamenti climatici, verrà presentata la campagna Madre Terra, io faccio la mia parte. Si tratta di un appello a tutti, normali cittadini, opinion leader, amministratori pubblici, manager pubblici e privati. Tra le prime adesioni, quelli di alcuni importanti media partner disponenti del mondo dello sport. Fra queste ultime, quelle del portiere della Sampdoria Emiliano Viviano e del giocatore del Genoa, Davide Biraschi. Anche io faccio la mia parte. Per il locale Coperta Genova, scelgo prodotti della tradizione italiana ecosostenibili. L'acqua è bene e preziosa. Anch'io faccio la mia parte. E non lo spreco mai.